Il primo anno in Italia, campione olimpico con il Brasile, lo schiacciatore Riccardo Lucarelli vola con la sua Trento, settima vittoria consecutiva, anche Piacenza, KO. Sì, sì, adesso ci piace giocare così, quindi la squadra sta giocando meglio, consistente, tutti in battute, recessione, muro, il sistema sta andando bene, e questo aveva bisogno di tempo, noi sappiamo che era una squadra nuova. Non era facile battere una squadra come Piacenza, eravate le due squadre più in forma di questo momento, e invece un 3-0, non voglio dire facile facile, ma è importantissimo. Sì, molto importante, noi stiamo adesso andando, proviamo di andare su sulla classificazione, e anche è buono per le squadre andare così, perché la fiducia sempre cresce quando fai una partita così, con una squadra forte come Piacenza, e con certezza, sicuramente siamo molto felici. È stata l'ultima partita in casa prima del Natale, ecco, che Natale si aspetta Riccardo Lucarelli? Non possiamo fare molte cose, però facciamo in casa con i ragazzi che sono di qua, io, Nimir, Lisnat, Cortesia, che sono ragazzi che non c'è amorosa o famiglia, che sono di qua e facciamo insieme una cosa, faccio sicuro una videocamata con la mia famiglia, perché è una Natale sempre importante lì in Brasile, però va bene, sappiamo che questa situazione adesso con Covid non è facile, non si può andare di qua, lo sappiamo, quindi facciamo il meglio che possiamo.